buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buon sabato 18 giugno 2022 e anche buona domenica perché la domenica non siamo in onda e quindi dovrete accontentarvi di queste provisioni per tutto il weekend e la luna cambia segno proprio verso luna di notte di domenica quindi avremo un sabato ancora intriso dell'energia della luna in acquario mentre la domenica manifesterà già le caratteristiche energetiche della luna in pesci vediamo quali sono le differenze l'acquario è un segno d'aria è un segno molto razionale molto logico dotato di molta fantasia e di una capacità di visione in avanti una visione futuristica i pianeti governatori dell'acquario sono saturno e urano proprio come il capricorno sono gli stessi governatori però nettuno è esaltato nell'acquario il che lo fa diventare un segno sicuramente molto più aperto più progressista più aperto alla visione del futuro e in questo la luna si inserisce bene anche se ovviamente non è proprio il segno migliore per le energie lunari però diciamo che ci può essere una spinta verso il futuro verso la visione del futuro ma tutto deve essere riportato alla realtà riportato alla realizzazione alla possibilità di realizzazione delle cose i pesci invece sono un segno votato alla fantasia alla connessione con il mondo invisibile con quello che ancora non è stato portato qui in questa dimensione in questa realtà è il mondo dell'inconscio il mondo onirico e qui la luna è esaltata in questo segno quindi ci sta benissimo vengono esaltate tutte le qualità del segno dei pesci ma anche la mancanza di concretezza ecco perché il sabato sarà sicuramente una giornata spesa bene se facciamo delle cose pratiche concrete che può essere anche fare compere comunque comprare delle cose utili mentre la domenica è una giornata sicuramente da spendere bene nella natura o comunque anche leggendo un libro guardando dei film insomma nutrendo la nostra anima con immagini e visioni di qualcosa che magari non abbiamo nella nostra vita ma che ci può creare un collegamento con qualcosa che non c'è ancora ovviamente queste energie vengono recepite in modo diverso dai vari segni vi ricordo che in questo momento i pianeti sono tutte nella tutti nella porzione dello zodiaco dei segni invernali e primaverili infatti abbiamo plutone nel capricordo il primo segno invernale abbiamo la luna e saturno in acquario e poi la luna entrerà nel segno dei pesci dove c'è già nettuno in ariete abbiamo marte e giove in toro abbiamo venere urano e in gemelli abbiamo mercurio e il sole e non ci sono pianeti perlomeno non pianeti del nostro sistema solare magari ci saranno degli asteroidi ci saranno altre cose ma non quelli che vengono utilizzati in astrologia e quindi non abbiamo nulla nel cancro nel leone nella vergine nella bilancia nello scorpione nel sagittario e tra l'altro c'è una preponderanza di pianeti nei segni d'aria e di fuoco seguiti dai pianeti nei segni di terra e solo un pianeta nei segni d'acqua pesci anche se domani appunto domenica la luna entrerà a far compagnia a nettuno e tra l'altro sono entrambi i signori dei pesci per cui in particolare lunedì quando si congiungeranno ci sarà una manifestazione molto forte di questi valori pescini e per chi già è intriso di questi valori nel proprio tema natale perché magari ha molti elementi nel segno dei pesci o magari ha già una congiunzione luna nettuno luna venere nel proprio tema natale ebbene potrebbe avere un po' un eccesso di queste energie che si manifestano nella vita quotidiana come si manifestano il meglio è quando si manifestano nella fantasia nella creatività nella capacità di avere nuove idee nuovi nuove visioni del futuro ma purtroppo è il confronto con la realtà che a volte è carente e qui soprattutto appunto le persone che sono caratterizzate dai valori pesci ho stilato la mia pagella dei segni quindi dando un po' i voti ai vari ai vari segni zodiacali e ovviamente questa pagella varia un pochettino dal sabato alla domenica allora vediamo un po' partendo sempre dai segni con i valori i voti più bassi e parliamo di sabato di oggi in fondo alla lista c'è lo scorpione con un 7 insomma lo scorpione non tollera tanto bene la luna in acquario e in più a parecchi altri pianeti dissonanti e quindi le energie sono un po' in ribasso e lo scorpione ha bisogno di riposarsi e ricaricarsi molto anche se è vero che ama le sfide e a volte queste sfide lo caricano molto perché gli danno quella motivazione quella spinta ad andare un po' oltre al terzo posto con un 8 sempre al sabato abbiamo cancro leone sagittario capricorno e pesci e tutti questi segni hanno insomma parecchi oppositori hanno anche dei sostegni da parte di alcuni pianeti ma hanno anche la maggior parte dei pianeti contro tra virgolette e quindi anche loro devono gestirsi un po' bene le energie non esaurirsi troppo non magari focalizzarsi troppo su una cosa che poi la cosa che più li fastidisce o permette insomma di scatenare qualche reazione emotiva un po' forte al secondo posto con un bell'otto e mezzo sempre al sabato abbiamo toro vergine e bilancia perché in questo momento sono hanno anche loro dei pianeti dissonanti però sono tutto sommato ben sostenuti e possono reagire molto bene alle piccole sfide della vita quotidiana e infine al primo posto con un bel 9 abbiamo ariete gemelli e acquario che sono infatti un segno di fuoco i due segni d'aria come vi dicevo in questo momento c'è una concentrazione di pianeti in questi segni di fuoco ed aria per cui questi sono i segni più sostenuti con più energia con più slancio più vitalità con più occasioni diciamo le cose cambiano un pochettino la domenica con la luna in pesci ed ecco che all'ultimo posto con un 7 invece dello scorpione abbiamo il sagittario infatti la luna in pesci nonostante sia un segno con tanti valori simili al sagittario però è in posizione di dissonanza e a 90 gradi di distanza sul cerchio zodiacale e questo provoca sempre qualche frizione nei sagittari e non solo determina anche una mancanza di focus di concentrazione quindi lo scorpione che prima era l'ultimo posto risale al terzo insieme qui al terzo posto con quindi un 8 abbiamo gemelli vergine bilancia e scorpione anche il gemelli non tolgerà tanto bene la luna in pesci però in questo momento ha comunque molti più sostegni rispetto al sagittario e lo stesso si può dire della vergine e anche della bilancia anche se vediamo la bilancia scendere dal secondo al terzo posto e idem la vergine mentre i gemelli sono retrocessi addirittura dal primo al terzo posto lo scorpione invece acquisisce una posizione quindi dal 7 acquisisce un bellotto e appunto sale di una posizione perché la luna in pesci per lo scorpione è un'ottima alleata da chiarezza da conferme allo scorpione che quello che lui percepisce è effettivamente la realtà e quindi è sulla strada giusta anche se magari i risultati non si vedono ancora al secondo posto con un otto e mezzo abbiamo cancro leone capricorno acquario e pesci quindi cancro leone capricorno e pesci acquisiscono un salgono di una posizione per tutti loro la luna in pesci è un'ottima notizia un'ottima influenza che agisce soprattutto sull'emotività sull'interiorità sulla serenità interiore per il leone più che altro perché si toglie dall'opposizione in acquario no quando finché è in acquario la luna è in opposizione al segno del leone spostandosi di segno non è più in opposizione è neutro e qui il leone guadagna una posizione ha un po più di energia a proprio favore l'acquario invece la domenica perdendo la luna nel proprio segno perde di una posizione quindi dal primo posto del sabato scende al secondo ma comunque va sempre molto bene al primo posto la domenica sempre con un bel 9 abbiamo di nuovo la riete che quindi rimane alla prima posizione ma il toro sale dalla secondo posto al primo e anche il toro guadagna un bel 9 perché la luna in pesci è sempre una buona posizione anche per il toro aiuta a uscire dalle restrizioni il toro è un segno di terra è molto concreto è molto pratico ebbene la luna in pesci lo aiuta a guardare un po più in là a non avere una visione così ristretta solo sull'immediato sulle proprie cose ma a spaziare un pochino con lo sguardo e quindi ad avere più intuizioni più idee più stimoli che lo possono arricchire e possono ampliare il proprio spazio vitale ovviamente le nostre sono delle previsioni molto generiche che riguardano la posizione del sole non possiamo per forza di cose prendere in considerazione ogni singola posizione di ogni pianeta noi possiamo avere il sole in un segno la luna in un altro mercurio e venere in un altro ancora ma non solo due persone nate nello stesso momento in due punti diversi del globo avranno un tema natale abbastanza diverso se non altro nella distribuzione delle case le case sono 12 come i segni e rispecchiano gli ambiti di vita in cui si manifestano le energie della persona per cui il pianeta nel segno ci descrive le qualità della persona in un certo ambito per esempio venere nell'ambito affettivo mercurio nell'ambito intellettuale mentale della percezione della comunicazione e così via ma le case sono il modo in cui esplichiamo queste energie queste qualità per esempio potremmo avere un mercurio in gemelli che è un'ottima posizione per l'intelligenza è uno una delle posizioni in cui mercurio risplende di più nell'intelligenza nella percezione della capacità di cogliere le cose gli eventi gli indizi intorno a sé però se questo mercurio si trova in una casa magari in sesta casa che è la casa del quotidiano delle piccole cose ebbene questa intelligenza si applicherà di più appunto sulle cose più piccole più minute magari darà dei buoni risultati nella contabilità se invece questo mercurio fosse in nona o in decima casa ebbene questa intelligenza si applica di più a lontano per esempio se il mercurio si trova nella nona casa e quindi ci sarà un'abilità maggiore nell'apprendere le lingue o nel commercio con l'estero quindi il tema natale è un po la rappresentazione di chi siamo è un po la dotazione genetica con cui veniamo al mondo io lo chiamo anche un po un riflesso del proprio karma personale i transiti ovvero siccome i pianeti continuano a girare no insieme al sole insieme a tutto il resto della galassia ebbene i pianeti formano delle nuove posizioni delle nuove relazioni con la posizione che avevano al momento della nascita questi si chiamano transiti quindi i pianeti transitano nei segni nelle case e sulle posizioni relative alla nascita creando delle occasioni di evoluzione di cambiamento di sblocco di potenzialità quindi sicuramente è molto interessante farsi fare il tema natale e i transiti personalizzati io di solito li faccio per 12 in per i 12 mesi successivi a volte mi chiedono per farli di farli per due o tre anni ma non ha molto senso perché anche qua la previsione non è slegata da tutto il resto bisogna sapere che cosa ha fatto una persona fino a quel momento per ipotizzare che cosa potrebbe fare prossimamente in che direzione si dirigeranno le sue energie l'astrologia non è profezia è una previsione esattamente come meteorologi fanno previsioni sulla base dei venti delle correnti eccetera ma magari non sono previsioni precise sono indicazioni di quello che potrebbe succedere poi magari la quantità potrebbe essere diversa prevedono pioggia e magari è appena appena una pioggerellina o invece è un'acquazione di quelli potenti e lo stesso avviene in astrologia detto questo io vi auguro un buon weekend prendete al massimo le occasioni che vi danno la luna in acquario e la luna in pesci e ci vediamo lunedì e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica marillis.com